Penny? 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 Che cosa succede se rispondo io? Boh, scopriamolo. Avanti! Bernadette? 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 Avanti! Continuate pure, non ho nient'altro da fare! Entra e basta! Per il futuro, quando voglio vedere Mingers, posso guardarlo su Netflix. Scusaci, di cosa hai bisogno? Beh, come ben sapete, passerò il compleanno di Emi insieme a lei. E ho bisogno del vostro prezioso aiuto per scegliere il regalo perfetto. Mi sono venute tre idee. La prima è la possibilità di farle suonare l'arpa con la filarmonica di Los Angeles. Che cavolo, puoi organizzarlo davvero? Ho detto la possibilità. Quando al ristorante dici che è la tua festa, fanno tanto chiasso. Alla filarmonica non sarà diverso. Che ne dici di una cosa un po' più realistica? Beh, ad Emi piace molto lavorare a maglia, quindi pensavo di regalarle un bel viaggio tutto compreso al Festival della Lana e della Pecora del Wisconsin. Stavo aspettando il Bazinga. Potrebbe essere romantico, loro due in viaggio, che si riscaldano a vicenda nell'innevata Wisconsin. No, 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 ci andrebbe da sola. Se ho paura degli uccelli, figuratevi delle pecore. Ok, qual è la terza opzione? Beh, avere un coito con lei. Oh!